Epistola di Paolo Apostolo a Tito Capitolo I Paolo, servitore di Dio e apostolo di Gesù Cristo per la fede degli eletti di Dio e la conoscenza della verità che è secondo pietà, nella speranza della vita eterna alla quale Dio, che non può mentire, promise avanti i secoli, manifestando poi nei Suoi propri tempi la Sua parola mediante la predicazione che è stata a me affidata per mandato di Dio, nostro Salvatore, a Tito, mio vero figliuolo, secondo la fede che ci è comune, grazia e pace da Dio Padre e da Cristo Gesù, nostro Salvatore. Per questa ragione t'ho lasciato in Creta, perché tu dia ordini alle cose che rimangono affare e costituisca degli anziani per ogni città, come t'ho ordinato, quando si trovi chi sia irreprensibile, marito d'una sola moglie, avente figliuoli fedeli che non siano accusati di dissolutezza né insubordinati, poiché il vescovo bisogna che sia irreprensibile come economo di Dio, non arrogante, non irracondo, non dedito al vino, non manesco, non cupido di disonesto guadagno, ma ospitale, amante del bene, assennato, giusto, santo, temperante, attaccato alla fedel parola, quale gli è stata insegnata, onde sia capace di esortare nella sana dottrina e di convincere i contradditori. Poiché vi sono molti ribelli, cianciatori e seduttori di mente, specialmente fra quelli della circoncisione, ai quali bisogna turare la bocca, uomini che sovvertono le cose intere, insegnando cose che non dovrebbero per l'amore di disonesto guadagno, uno dei loro, un loro proprio profeta, disse, i cretesi sono sempre bugiardi, male bestie, ventri pigri. Questa testimonianza è verace. Riprendeli perciò severamente affinché siano sani nella fede, non dando retta a favole giudaiche né comandamenti d'uomini che voltano le spalle la verità. Tutto è puro per quelli che sono puri, ma per i contaminati ed increduli niente è puro, anzi, tanto la mente e che la coscienza loro sono contaminate. fanno professione di conoscere il Dio, ma lo rinnegano con le loro opere, essendo abominevoli, ribelli e incapaci di qualsiasi opera buona. EPISTOLA A TITO CAPITOLO SECONDO Ma tu esponi le cose che si convengono alla sana dottrina, che i vecchi siano sobri, gravi, assennati, sani nella fede, nell'amore, nella pazienza, che le donne attempate abbiano parimente un portamento convenievole a santità, non siano maldicenti né dediti a molto vino, siano maestre di ciò che è buono, onde insegnano alle giovani ad amare i mariti, ad amare i figliuoli, ad essere assennate, caste, date ai lavori domestici, buone, soggette ai loro mariti, affinché la parola di Dio non sia bestemmiata. Esorta parimente i giovani ad essere assennati, dando te stesso in ogni cosa come esempio di opere buone, mostrando nell'insegnamento purità incorrotta, gravità, parlarsano, irreprensibile, onde l'avversario resti confuso, non avendo nulla di male da dire di noi. Esorta i servi ad essere sottomessi ai loro padroni, a compiacerli in ogni cosa, a non contraddirli, a non frodarli, ma a mostrare sempre lealtà perfetta, onde onorino la dottrina di Dio nostro Salvatore in ogni cosa, poiché la grazia di Dio salutare per tutti gli uomini è apparsa e ci ammaestra a rinunziare alle impietà, alle mondane concupiscenze, per vivere in questo mondo temperatamente, giustamente e pienamente, aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore, Cristo Gesù, il quale ha dato se stesso per noi, affin di riscattarsi da ogni iniquità e di purificarsi un popolo suo proprio, zelante nelle opere buone. Insegna queste cose, ed esorta, e riprendi con ogni autorità. Niuno ti sprezi. Epistola a Tito Capitolo terzo Ricorda loro che stiano soggetti ai magistrati e alle autorità, che siano ubbidienti, pronti a fare ogni opera buona, che non dicano male ad alcuno, che non siano contenziosi, che siano però beligni, mostrando ogni mansuetudine verso tutti gli uomini. Perché anche noi eravamo una volta insensati, ribelli, traviati, servi di varie concupiscenze e volutà, menanti la vita di malizia ed invidia odiosi e odiantici gli uni agli altri. Ma quando la benignità di Dio nostro Salvatore e il suo amore verso gli uomini sono stati manifestati, Egli ci ha salvati non per opere giuste che noi avessimo fatte, ma secondo la sua misericordia mediante l'avacro della rigenerazione e il rinnovamento dello Spirito Santo, che Egli ha copiosamente sparso su noi per mezzo di Gesù Cristo, nostro Salvatore, affinché, giustificati per la sua grazia, noi fossimo fatti eredi secondo la speranza della vita eterna. Certa è questa parola, e queste cose voglio che tu affermi con forza, affinché quelli che han creduto a Dio abbiano cura da tendere a buone opere. Queste cose sono buone ed utili agli uomini. Ma quanto alle questioni stolte, alle geneologie, alle contese e alle dispute intorno alla legge, statene lontano, perché sono inutili e vane. L'uomo settario, dopo una prima e una seconda munizione, schivalo, sapendo che un tal uomo è pervertito e pecca, condannandosi da sé. Quando t'avrò mandato a Artemas, Antichico, studiati di venire da me a Nicapoli, perché ho deciso di passar qui vi l'inverno. Provvedi con cura al viaggio di Zena, il legista, ed Apollo, affinché nulla manchi loro, ed imparino anche i nostri ad attendere a buone opere, per provvedere alle necessità, onde non stiano senza portare frutto. Tutti quelli che sommecoti salutano, saluta quelli che ci amano in fede. La grazia sia con tutti voi.